Segui La Sette anche su Instagram, La Sette ovunque con te. Quindi io ti dico che ritengo il presidente Biden uno dei peggiori presidenti finora della storia d'America, all'altezza di Carter. Quindi capisci che apriamo un dibattito infinito. E ritengo anche, tornando al discorso di prima, personaggi come il tuo ospite e giornalista ucraino, il peggior servitore della causa ucraina, specialmente se la guerra deve essere lunga. Perciò ricordo soltanto una cosa, che Trump aveva messo sanzioni a Putin, ricordo che le minacciava alla Merkel per la sua ospolitik e quindi sarà bene che facciamo un discorso un pochino più complesso. Allora, siete già rinvitati, faccio chiudere Furio Colombo, duratanto perché lo vuole Biden.